buongiorno a tutti oggi voglio fare un interattivo una stesa unica per scoprire insieme a voi quali novità ci saranno in amore non darò tempi a questa stesa e inizio subito con la domanda quali novità ci saranno in amore per coloro che stanno seguendo la varianza unica quali novità ci saranno in amore per coloro che stanno seguendo la variante unica nel taglio il matto scusate sposto la candela e nel fondo mazzo abbiamo l'asso di spade allora qualcuno è pronto per correre un rischio per ricominciare e anche per portare chiarezza laddove non c'era o per dichiararvi qualcosa all'improvviso qualcosa che magari vi ha tenuto sì è probabile qualcosa che vi ha tenuto sulle spine qualcosa che vi ha preoccupato stressato potreste scoprire anche un inganno perché no comunque sono le energie di chi è pronto a correre un rischio e a fare più chiarezza sia con con se stessa o con voi vediamo subito allora situazione nel presente energia positiva energia negativa passato futuro imminente passato futuro imminente energia di chiusura della futuro imminente allora vediamo cosa dice il 3 di spade allora probabilmente vi siete allontanate da qualcuno qualcosa che vi ha fatto stare male che ha generato in voi uno stato di sofferenza e può trattarsi anche di un tradimento quindi esistono varie forme di quindi potreste anche scoprire un tradimento o comunque una situazione che non mi farà così felici vediamo al positivo sai di bastoni però c'è la la voglia di riuscire un esito positivo in qualcosa che riguarda appunto l'amore ad esempio una relazione extra perché il 3 di spade ci può parlare di una relazione extra infatti di un tradimento come ho detto prima però potreste essere voi che guardate il video ad aver diciamo intuito che la persona con cui voi state magari all'amante ha una relazione extra oppure semplicemente vi siete allontanate o allontanati da una persona o una situazione che vi faceva stare male e voi comunque volete in qualche modo lottare volete averla vinta non vi arrendete e non vi arrenderete vediamo al blocco al negativo il fante di scusate le sovrappongo un attimo così almeno sicuramente riuscite a vederle meglio allora al negativo o in blocco c'è il fante di denari che ci parla di qualcuno che molto probabilmente non non ha fatto ciò che doveva fare non è stato abbastanza concreto potrebbe avervi fatto una proposta insoddisfacente qualcosa che per voi era insoddisfacente quindi può trattarsi di una persona inconsistente una relazione inconsistente in cui c'erano pochi fatti e molte parole poi ripeto per quanto riguarda il tradimento esistono varie forme di tradimento non solo quella quello sentimentale o fisico l'asso di bastoni e la regina di denari e qui ci parla di una donna un'energia femminile che tra l'altro può avere come segno solare il toro la vergine o il capricorno o avere uno di questi segni come ascendente o nel tema natale e quindi ci vedo una donna concreta pratica che bada molto alla concretezza che sicuramente sa cosa vuole e che ha iniziato una relazione che con un uomo che può essere impegnato oppure se tu ti guardi sei una donna potresti essere già impegnata aver iniziato una relazione per esempio una relazione extra però evidentemente non sei molto soddisfatta o l'altra persona non è così soddisfatta e quindi c'è questo senso di di tristezza a me viene da dire quindi è probabile che tu che stai guardando abbia deciso di allontanarti perché hai ricevuto una delusione o comunque questa persona non è poi così concreta e poco matura perché il fante di denari come tutti i fanti indicano una persona che ha poca esperienza oppure una persona che anche se ha un'età compresa fra i 30 e i 50 anni è poco matura no quindi forse questo può aver creato in voi un senso di di malessere vediamo la luna e allora qui si parla sicuramente di una relazione clandestina e il quattro di luna imperatore e quattro di denari allora qui ci parla di qualcuno che può anche avere paura di impegnarsi con voi può avere delle paure inconsce è una persona che ha un certo autocontrollo che è portata a tenere sotto controllo una situazione specifica e io vedo che comunque c'è una relazione clandestina o qualcosa che vi è stato tenuto nascosto che voi dovete tenere nascosto a questa persona o alla vostra famiglia comunque questo è ciò che vedo sta di fatto che nel taglio come avevo detto all'inizio c'è il matto e nel fondo mazzo all'asso di spade nove di spade sette di spade due di spade il carro e sì qui c'è qualcuno che magari ha voluto evitare di prendersi ha voluto evitare la sua parte di responsabilità o situazioni stressanti e aveva le idee poco chiare e però io vedo che può esserci comunque un una rinascita una ripartenza vediamo voglio chiedere per la luna e poi l'imperatore una carta per favore per capire a cosa si riferisce la luna in questa stesa una carta per favore per capire a cosa si riferisce la luna in questa stesa una carta per favore per capire a cosa si riferisce la luna in questa stesa Allora, non cade la carta e la scelgo io L'ha peso Beh, è probabile però che voi siate in una pausa di riflessione con questa persona Oppure che questa persona non vuole una pausa di riflessione con voi Cioè non vuole appunto mettere in stand by la vostra relazione, il vostro rapporto Anche se può essere iniziato da poco tempo O è in crisi da poco tempo Però vuole cambiare prospettiva Vuole andare avanti Vediamo Metto un'altra carta Sì, assolutamente sì, 8 di denari Questa persona sa di doversi impegnare di più Di dover fare dei sacrifici, di impegnarsi Al di là del fatto che possa essere presa realmente dai suoi impegni quotidiani Mi spiego Se questa persona o anche voi Magari siete concentrati Uno dei due Magari si sta impegnando Si impegnerà nel suo lavoro Però vuole impegnarsi anche con voi E vuole uscire allo scoperto Vuole, innanzitutto vuole fare chiarezza con se stesso e con voi Ma vuole anche uscire allo scoperto Infatti Io ho mischiato le carte E nel fondo mazzo c'è Di nuovo l'asso di spade Provo a chiedere per l'imperatore Una carta per favore Per l'imperatore Una carta per l'imperatore Cos'è quell'imperatore? Cos'è quell'imperatore? Allora 10 di spada Allora Lui vuole lasciare alle spalle I problemi che ci sono stati tra di voi O i suoi problemi Quindi vuole chiudere un ciclo doloroso E vuole voltare le spalle a A qualcosa che comunque Lo ha fatto stare male Per poi Agire come indica l'otto di bastoni Per cambiare le cose tra voi Sì Assolutamente sì Provo a chiedere per il 4 di denari Una carta per favore Per capire a cosa si riferisce Il 4 di denari In questa stesa Allora 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 Allora, vediamo Beh, caspita, 10 di denari sul 4 di denari Lui vuole piena realizzazione Quindi per me lui si farà avanti con voi Troverà il coraggio di farsi avanti con voi Perché vuole una piena realizzazione Vuole un pieno appagamento E ci sarà pieno esito, piena riuscita Quindi se tra voi ci sono stati dei periodi difficili Dovuti anche a una terza persona Perché comunque il 3 di spade può indicare L'intromissione di qualcuno Cioè qualcuno può essersi intromesso Qualcuno può essersi intromesso nel vostro rapporto E aver creato un disequilibrio Sta di fatto che anche se ci sono stati dei problemi Questi problemi riuscirete a superarli Grazie al fatto che lui vuole voltare le spalle A ciò che ha creato sofferenza Ai conflitti E vuole un cambiamento Come indica la morte nel fondo mazzo Quindi ci sarà un cambiamento positivo Per voi Che state guardando E che hanno esito Quindi in ambito sentimentale Riuscirete a A quagliare Come si suol dire Quindi io questo vedo Questo vi ho detto Vi auguro in bocca al lupo Se l'interattivo vi risuona Lasciate i vostri commenti Se volete iscrivervi al canale Cliccate sulla campanellina Così potrete ricevere le notifiche Io vi mando un grande abbraccio E ci rivediamo alla prossima Grazie a tutti